buongiorno e benvenuti nel mio canale brevissimo video che riguarda instagram fino a poco tempo a per pubblicare contenuti su instagram da computer vale a dire 8 ma soprattutto video dovevamo usare degli escamotage come far credere a instagram che si stava inserendo dei contenuti da un da uno smartphone o da un tablet adesso non è più necessario ma si può usare l'applicazione instagram della microsoft per pubblicare foto e video sul nostro account direttamente dal computer questo naturalmente è una grande facilitazione per tutti coloro che utilizzano instagram soprattutto in maniera massiccia vediamo come procedere innanzitutto viene utilizzata un'applicazione dello store della microsoft anche se si tratta di un'applicazione pwa progressive web application oppure applicazione progressiva detto in italiano che comunque si può installare dallo store a meno che non esista già per vedere se esiste già si va qua su start si digita instagram come vedete c'è già l'app instagram quindi io ce l'ho già nel caso in cui non uno non ce l'avesse va sullo store va qua su ricerca digita instagram ecco qua l'app clicca sopra in questo caso io l'ho già installata e va su avvia per aprire l'app instagram nel caso in cui non fosse installato bisogna chiaramente prima andare su installa quindi sul download ovviamente poi bisogna fare l'accesso chiaramente con il nostro account io l'ho già fatto e ho salvato l'accesso quindi non occorre che lo faccia nuovamente come vedete c'è il più qua e quindi per inserire un nuovo contenuto lo si può anche dal computer se ammettere a tutto schermo si va su più qui siccome vedete si possono trascinare sia le foto sia i video e si possono selezionare dal computer sia foto sia video per esempio carichiamo una foto ne prendo una qualsiasi naturalmente la elimino si può posso lasciare la dimensione originale oppure quella quadrata quella come sapete su instagram si possono fare queste cose ritratto orizzontale cerchiamo da originale vado su avanti chiaramente poi posso applicare un filtro come succede naturalmente nel nello smartphone nel tale da su avanti chiaramente qui posso metterci che so un hashtag diciamo test quindi ora su condividi e questo post sarà condiviso sul mio account direttamente dal computer come detto post è stato caricato posso chiudere si può caricare si possono caricare anche i video andiamo sul più seleziona al computer seleziono magari un video lo su api procedimento è lo stesso c'è l'opzione con l'aspetto razio originale posso passare c'è quello quadrato come vedete c'è un ridimensionamento automatico quello ritratto quello orizzontale in questo caso lascio l'originale e naturalmente mi vado come faccio come ho fatto in precedenza su avanti posso mettere video senza audio oppure lasciare l'audio andare su avanti ancora anche questo metto test come hashtag e con atto vado su condividi e questi post saranno condivisi nel mio account instagram caricamento naturalmente il caricamento per un video sarò più lungo ma neppure tanto sono una buona connessione caricamento post è stato caricato si chiude e e questo è tutto quindi se volete pubblicare contenuti sia immagini o video da instagram lo potete fare direttamente con l'applicazione instagram dello store ovviamente gratuita ovviamente potete anche gestire instagram direttamente da questa applicazione senza bisogno di utilizzare altri escamotage per poter aggiungere contenuti anche tramite computer e questo è tutto alla prossima volta